In area si va a sistemare anche Piccioni, il cross basso e poi un pallone per Kribek, tre avversari, Kribek la mette nell'angolino con il sinistro e batte Marini per l'1-0 del Deruta, secondo gol in campionato per Kribek e il Deruta in vantaggio a Pian Castagnaio con il gol del numero 11 Kribek al minuto 24. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!